Quasi 3.200 imprese in più nel 2023 sul territorio pugliese, con un tasso di crescita dello 0,8% al di sopra della media nazionale, eppure di quella del Mezzogiorno e delle Isole. I numeri sono quelli della Camera di Commercio, secondo le stime dell'Ufficio Statistica e Studi di Union Camere. Non basta per cantare vittoria, si intende, visto che Cigelle e Confindustria hanno appena riacceso i fari su precarietà e qualità dell'occupazione, dalle basse competenze richieste ai rapporti attivati, che per un terzo sul territorio regionale non superano le 30 giornate. In compenso il termometro è ugualmente quello del dinamismo e resta mediamente più caldo che nel resto del Paese. C'è infatti una maggiore strutturazione a livello societario con le società di capitali, che in Puglia crescono a passo accelerato, nello specifico del 3,9%, è una dinamica già netta a livello nazionale, ma che in Puglia, spiegano, sembra addirittura più marcata. Flettono le società di persone e le ditte individuali resistano, sì, ma con perdite. Insomma, una riorganizzazione in corso che vede più vivaci le province di Brindisi e Lecce, che fanno segnare rispettivamente il più 1,3 e il più 1,2%, con Taranto, che si attesta sulle medie regionali, mentre Bari e Foggia hanno comunque tassi di crescita positivi, ma un andamento più contenuto.